Adesso è un momento particolare perché lasceremo, è il momento di lasciare al palco questo bellissimo ragazzo affascinante, elegante, di classe, Ignazio. Cioè ci sa, lo vogliamo bene, è vero, è una bella presentazione, se lo meno, il Johnny Depp è italiano. La gelosia è una brutta bestia, purtroppo c'è chi arriva a un mezzo ottanta senza ciuffo e chi arriva a un mezzo settanta quattro senza ciuffo. Scusi, ma cosa applausi? Stasera si gioca in casa, anche se per tutti i ragazzi come noi, soprattutto quelli più piccoli, la morale non conta l'altezza ma conta essere all'altezza, che è ben diverso. Disse il nano. E' il filosofo? E' il tuo? No, a parte gli scherzi. Accenda, Freud. Mi piace Freud, mi piace. Questo bel ragazzo che si chiama Ignazio Boschetto, faccio una presentazione, canterà per voi una delle aree più belle, tratte dall'elisir d'amore di Gaetano Donizzetti, una furtiva lacrima. Grazie. 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 Grazie.